Buongiorno, sono Franco Arcovito e questa mattina, il 7 maggio, ci sono in collegamento con il rettore, il professor Salvatore Cuzzocrea dell'Università di Messina. A lui chiedo quale sia il suo stato d'animo su questi tempi di Covid, quale sia lo stato d'animo dell'uomo e del rettore. Intanto ringrazio Franco Arcovito per l'invito, che è sempre cortese e gentile nei confronti dell'università e i miei personali. Lo stato d'animo dell'uomo è uno stato d'animo di chi, avendo vissuto una situazione analoga, seppur con un virus diverso nel 2009, quando fu ricoverato in terapia intensiva, c'è grande attenzione, grande rispetto, grande speranza e comprensione per quelle famiglie, per quei medici, per quei pazienti che hanno passato oggi con un virus ben più forte che il Covid-19, quello che io all'epoca passai nel 2009 con il virus dell'H1N1. Quindi quando parlo di attenzione, rispetto, di emozioni particolari, di ricordi dei numeri della terapia intensiva, ovviamente lo faccio perché so bene che cosa significa stare in quei luoghi per tanto tempo e sperare come è stato per me, grazie all'aiuto per chi come me crede del Signore, ma della competenza estreme dei medici all'epoca per me dell'Ismet di uscire sano e salvo. Anche in quel caso non tutti uscirono bene come sono uscito io, i numeri di questa pandemia sono di gran lunga superiore, il dramma vissuto dal Paese è superiore, ma per ogni famiglia il singolo caro che è venuto a mancare o è stato male vale in maniera inconmensurabile e incalcolabile. Come rettore ho cercato di occuparmi di tutto con l'aiuto della squadra di governo, di essere presente sul territorio, di porre in essere iniziative importanti e devo ringraziare tutti i colleghi e tutto il personale tecnico-amministrativo perché al di là di quanto abbiamo fatto per il territorio e continueremo a fare, l'attività normale dell'Università non si è fermata neanche di un secondo, anzi devo dire che col sistema telematico tutti hanno lavorato molto di più e sono stati presenti a qualsiasi area del giorno e della notte. In proposito, professore, vorrei chiederle come hanno reagito gli studenti dell'Università alla didattica a distanza? Devo dire che la nostra classe studiastesca è una classe molto attenta, che ha compreso da subito il momento e la difficoltà. Si sono subito adeguati, è un mondo smart, è un mondo abituato ai social, è un mondo abituato alla telematica. Certamente noi siamo i primi a ribadire l'importanza dell'aula, l'importanza dei laboratori in presenza, l'importanza del contatto umano per costruire le carriere dei nostri giovani. Sappiamo che è una parentesi, una parentesi che certamente ha dato la possibilità all'Università di migliorare, ma i ragazzi hanno risposto molto bene stando davanti al computer con tranquillità, con serenità, superando esami, laureandosi. Certo, c'è il dispiacere di non aver fatto l'area in famiglia come avrebbero voluto. C'è il problema dell'empatia, le dico professore, l'empatia fra gli studenti. Noi siamo stati studenti e ce lo ricordiamo molto bene. Il fatto di non poter avere contatti fra gli studenti, addirittura anche diretti con il professore, la battuta o lo sguardo, ovviamente sarà un limite da superare il più presto possibile. Dobbiamo tornare in aula il più presto possibile, però in sicurezza, perché fare il rettore non è solo su un pezzo di carta la responsabilità nei confronti dei propri colleghi, che sono poi degli impiegati della struttura e dell'istituzione che tu governi in quel momento, ma io la sento proprio per l'esperienza personale molto. E quindi tutte le scelte che ho fatto le ho fatte in primo luogo, non soltanto per rispettare le norme che il governo diceva, che è un mio dovere, ma anche con una maggiore attenzione per la salute dei ragazzi e dei miei colleghi. Fermo restando che tutti vogliamo quell'empatia, tutti vogliamo la battuta del professore in aula, tutti vogliamo prenderci il rimprovero del professore, con ciò siamo presi io e il dottore Arcobito nelle nostre aule quando eravamo studenti, la pacca sulla spalla, il caffè col collega e la vita normale che non può essere, pur comprendendo, avendo figli giovani, il sistema della tecnologia, della distanza, dell'essere virtuali, però non si può essere amici virtualmente, non si può essere studenti virtualmente, non si possono essere persone virtualmente. Senta, fra 40 giorni, il 17 giugno se non vado errato, ci saranno gli esami di maturità. Mi piacerebbe che il rettore dell'Università di Messina, il professor Salvatore Guzzo Crea, potesse dire qualcosa a quegli studenti che in autunno entreranno o si iscriveranno all'Università di Messina? Intanto lo dico a tutti i ragazzi che affrontano la verità, faccio a loro un grande in bocca al lupo, è veramente una convinzione che molti di questi ragazzi sceglieranno di iscriversi all'Università di Messina, perché abbiamo dato delle risposte importanti sul campo, perché siamo un Ateneo che già l'anno scorso aveva abbassato le tasse, conoscendo il problema sociale del nostro territorio e non abbiamo avuto il bisogno di emergenze per prendere queste decisioni. Abbiamo fatto delle scelte importanti per gli studenti, che sono il motore fondamentale della vita di un'Università e quindi a loro stiamo dando importanti strutture, per esempio tutte le aule del Policlinico. In questi soli due anni di rettore abbiamo dato un'accelerata importante, con importanti investimenti, per esempio sul Policlinico per le aule. Tutte le aule del Policlinico dal 4 di maggio, appena il Presidente del Consiglio l'ha concesso, sono ripartiti i cantieri per dare aule dignitose e tecnologicamente avanzate agli studenti. Abbiamo ottenuto un nuovo, finalmente con l'aiuto dell'ingegnere Oteri, la approvazione e la chiusura del progetto e quindi la corretta rendicontazione di un finanziamento europeo che si stava per perdere, del Polo Papardo, che diventerà un Polo di eccellenza e un campus per gli studenti. Quindi stiamo mettendo in campo molte iniziative per questi ragazzi, che pensino alla maturità ma che guardino all'Università perché non bisogna essere esterofili. Poi i risultati dei nostri laureati sono sotto gli occhi di tutti. E quindi studiate a Messina e poi spero che il territorio vi dia la possibilità di sviluppare i vostri sogni anche in questa splendida regione, ma comunque studiate a Messina. Professore, l'ultima domanda. So che l'Università ha portato avanti diverse iniziative solidali. Se vuole parlare di quelle che avete sviluppato va bene, ma io preferirei sapere da oggi in poi cos'è che avete in programma come iniziative solidali proprio di spinta e di aiuto per questa situazione Covid. Beh, intanto abbiamo creato un fondo di 600 mila euro sul bilancio dell'Università per l'emergenza Covid. Questo ci ha concesso di acquistare ventilatori, maschere, chip up e altre attività per il Policlinico, riuscendo a recuperarli laddove era difficile trovarli. Continueremo l'azione sinergica col Policlinico, c'è un progetto condiviso tra me e il dottore Laganga che ringrazio sempre per quanto ha fatto, ma soprattutto per quanto farà per il nostro Policlinico, perché Peppe Laganga è un eccellente, in primo luogo un eccellente uomo e poi un ottimo ed eccellente manager, ha una nuova progettualità sul Policlinico che lo renderà ancora più forte. Soltanto in due anni al Policlinico noi abbiamo aperto la sala di rinnovazione, partiranno i lavori di altre saloperatorie. È stata aperta una sala di operatorie e verranno attivate delle importanti, anche semi-intensive in altri reparti. Questo è quanto riguarda l'aspetto sanitario. Poi abbiamo fatto tante cose, continueremo lo sviluppo tecnologico che ha portato i ragazzi di ingegneria, i colleghi a sviluppare in 3D le maschere che sono state utilizzate in alcune reparti in tutto il Paese e anche abbiamo fatto un'iniziativa voluta su input del dottore Trommino per donna un'ora del tuo lavoro. Sono state fatte le raccolte economiche da parte di tutti gli impiegati dell'università che avevano devolute per la comunità. Continueremo sempre a produrre il gel, continueremo sempre ad essere sul territorio e stiamo studiando con alcuni colleghi un progetto per i test serologici e per i test rapidi, intanzitutto da verificare e da provare all'interno della nostra università e del Policlinico, ma poi speriamo di poterlo aprire come servizio a tutta la città e a tutti i cittadini. Bene, molto bene. Professore, so che avete predisposto dei filmati che illustrano in qualche modo la vostra attività anche in questo periodo. Sì. Posso utilizzarli in parte naturalmente, cioè avere la liberatoria per poterli utilizzare? Essendo già su YouTube sono liberi, quindi non serve la liberatoria. È stata una bella iniziativa, alcuni li abbiamo fatti i nostri per rappresentare, per raccontare quello che abbiamo fatto in questi due mesi. Poi con l'aggiunta della Cruy, il presidente Ferruccio Resta, abbiamo insieme immaginato tutti i rettori di fare questo video della Cruy sulle università e poi è stato dato a ogni università la possibilità di farne uno proprio. Noi abbiamo fatto il nostro di come eravamo, di come siamo e di come vorremmo andare, quindi certamente può essere utilizzato, ci mancherebbe poi. Un bel filmato, devo dire. Va bene professore, noi abbreviamo, ci rivediamo una prossima volta senza bisogno di dover utilizzare necessariamente questo mezzo. Speriamo sicuramente. Sarà presto, sarà presto, tutto dovrà andare bene, tutto andrà bene. La ringrazio professore, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie ancora, buon lavoro. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.